Le porte della Questura sono aperte, nel vero senso della parola. Noi abbiamo bisogno di dialogare con i cittadini, anche per capire quelle sono le loro difficoltà, le loro istanze e cercare di dare risposte. Questo consente a noi di accelerare il nostro lavoro, far sì che i nostri risultati arrivino in tempi più brevi. Questo è fondamentale. Sicurezza partecipata, le parole chiave su cui pone l'accento il Questore della BAT a due giorni dall'inaugurazione ad Andria della nuova Questura da parte della Ministra dell'Interno Lamorgese. La collaborazione dei cittadini e strategica evidenzia Pellicone in una provincia delicata anche sotto il profilo delle infiltrazioni della criminalità organizzata, locale e proveniente dalla Capitanata e dal Barese. Ci sono i numeri per partire, sottolinea il Questore, ora l'obiettivo è potenziare gli organici. 24 le nuove unità arrivate ieri, guardia alta sulle mosse, gli appetiti delle mafie quindi e grande attenzione al contempo agli effetti socio-economici della pandemia che spongono ulteriormente i cittadini agli artigli della mala. che noi chiaramente stiamo esaminando e di cui dovremo assolutamente dare conto chiaramente agiremo in stretta sinergia con la durità giudiziaria perché è ovvio che sono aspetti sui quali bisogna investigare ma è una delle situazioni che destrano in noi preoccupazioni.